Ciao a tutti, benvenuto a te e benvenuti a voi. Io sono Costanza e questa è la nostra rubrica C'è una volta. Vi presento Giorgia, Giulia, Fabrizio, Michele. Cosa dobbiamo fare anche oggi? Dobbiamo inventare una storia. Allora, come voi sapete, prima di iniziare abbiamo bisogno di riscaldarci con il nostro riscaldamento della fantasia. Allora, proviamo a chiudere gli occhi senza imbrogliare. Io vi guardo fino a un certo punto, poi devo chiuderli anche io gli occhi. Chiudili anche tu, mi raccomando. Occhi chiusi. Ce li avete tutti quanti chiusi? No. Adesso ci rilassiamo e ci concentriamo. Testa sulla spalla sinistra. Testa sulla spalla destra. Testa indietro. Testa in avanti. Diamo il via alla fantasia. Molto bene. Oggi ho intenzione di fare con voi, di inventare con voi, una favola con le favole. Cosa significherà mai? Ve lo spiego subito con l'aiuto della mia borsina che si chiama Ina. Benvenuta a lei, Ina la borsina. Oh, com'è pesante la nostra Ina la borsina. Vediamo un po' cosa abbiamo qui dentro. Abbiamo dei titoli di storie. Anzi, mi correggo, titoli di favole. Ad ognuno di voi darò un titolo. Ne ho scritti questa mattina un bel po'. Sono le favole degli scrittori più famosi, di cui ricorderemo anche il nome. È importante sapere anche questo. Ad ognuno di voi ne capiterà una. A caso, voi sapete, tutto nasce in questo momento. Non è nulla che ho organizzato prima. Ad ognuno di voi capiterà un titolo e poi vi spiegherò dopo cosa fare. Giriamo. Soffiamo. Soffiate. Ah, titoli. Tutti per voi. Giorgia, scegline uno. Giulia, uno a caso. Fabrizio, quale vuoi? I, questo mi ha detto. E Michele, vai. Ok, non ne ho propria idea di cosa vi avete scelto. E cominciamo. Io prendo il mio libro magico, il mio magico pennarello e cominciamo a scrivere. Ma cosa dobbiamo scrivere? Innanzitutto ditemi i vostri titoli. Giorgia, tu che titolo hai? I vestiti nuovi dell'imperatore. I vestiti nuovi dell'imperatore che sono una favola di Andersen. Tu hai? Il gatto e la volta. Di La Fontaine. Tu hai? I cugini salvatici. Andersen. Di Andersen. E tu hai? Il baule volante. Ah, carino. Bene, adesso. Di Andersen. Di ogni titolo dovete scegliere una parola. Per favore, Michele, del tuo titolo cosa sceglieresti? Baule. Baule, ah dai, col baule ha voglia di inventare. Prima parola, baule. Fabrizio, tu cosa sceglieresti? Servatici. Il tuo titolo era? I cugini servatici. Quindi baule, selvatici. Qua c'è da sbizzardiccire e divertirci con la fantasia. Tu? Gatto. Gatto. C'è qualcosa che mi verrebbe in mente. E tu? Imperatore. Imperatore. Ah, qui abbiamo un personaggio importante. Allora, la nostra storia, eccola qui. Si intitola L'imperatore che aveva nel baule dei gatti selvatici. Mi è venuto così. Allora, l'imperatore che aveva nel suo baule dei gatti selvatici. Cominciamo. C'era una volta un imperatore, che era un po' cattivo forse, che usciva per le strade del suo paese, della sua contrada, perché voleva sempre raccogliere tutti i gatti selvatici che trovava in strada. E cosa voleva fare con questi gatti? Li voleva richiudere tutti in un baule. Ma secondo voi era giusta questa cosa? No. Allora, da dentro il baule, questi gatti selvatici, che erano anche bellissimi, un bel giorno decisero di ribellarsi, di dire, no, dobbiamo far capire all'imperatore che noi siamo gatti selvatici, ma siamo belli e buoni e ci deve lasciare liberi. E quindi comincia la missione dei gatti selvatici rinchiusi nel baule. Cosa succede? Cosa decidono di fare? La prima cosa più importante era quella di trasformare l'imperatore da cattivo a buono, perché non era possibile avere in quel paese un imperatore cattivo, doveva assolutamente essere buono. Bene, i gatti selvatici avevano una missione, far diventare questo uomo più buono. Giorgia, secondo te cosa decisero? Cosa organizzarono? Innanzitutto uscirono una notte da quel baule in cui erano rinchiusi tutti questi gatti selvatici e decisero di fare cosa? Di andare a dare i loro amici. Ah, andarono a chiamare i loro amici. Perché? Cosa volevano fare con i loro amici gatti della strada? Volevano? Far diventare l'imperatore buono. E come potevano riuscirci? Facendogli ridere e anche un po' scherzare. Ah, io avrei un'idea. Michele, vediamo se abbiamo la stessa idea. Per far di nuovo ridere e sorridere il nostro imperatore, cosa avranno mai potuto? Organizzare questi gatti selvatici? Saranno entrati di notte nella stanza da letto dell'imperatore e saranno andati a, per farlo sorridere, cosa si fa per farlo sorridere una persona? Il soletico. Saranno andati sotto le coperte. I piedi? Sì. Facendogli ridere il soletico. Esattamente. Per far tornare l'imperatore di nuovo buono, bastava molto poco. Bastava farlo sorridere con il soletico. Dunque, questo imperatore che russava tantissimo. Mamma mia, è infiedante questo imperatore. E che è un mariano? I gatti, quatti, quatti, entrano con le coderitte tutti zitti zitti. Un gatto alza le coperte, un altro si infila sotto, caccia le unghiette e cosa inizia a fare? Il soletico. E lì cosa succede? In quel momento cosa succede? Si sveglia e diventa buono. Diventa buono, ma prima di diventare buono avrà urlato qualcosa? Si sarà spaventato? Cosa sarà successo? Avrà riso da morire. Avrà riso da morire. E quindi i gatti cosa fanno? I gatti decidono di? Di farlo svegliare. Svegliare. E cosa gli dicono? Caro imperatore, d'ora in poi? Sì, bravo. Sì, bravo, perché altrimenti ogni notte verremo sotto le tue coperte a farti il soletico. E l'imperatore cosa risponde? Non vi preoccupate, ho un lucchetto che vi chiuderò tutti quanti il bomba. Ah, seconda missione. L'imperatore non solo avrebbe dovuto sorridere, ma doveva diventare ancora più buono perché non ha ancora. Capito la lezione? Missione numero due. La prima del soletico ha funzionato, ma non ancora tanto perché l'imperatore dice che vuole usare il lucchetto. Quindi deve diventare ancora più buono. Questa storia parla della missione per far diventare buono l'imperatore. Notte numero due. Secondo piano in azione. Il secondo piano in cosa consisteva? Nei gatti selvatici che di notte ne aprono zitti zitti il baule. Cosa fanno? Tra un miau miau miau. Cosa fanno? Decidono di far diventare ancora più buono l'imperatore. In che modo? Facendo cosa? Regalandogli che cosa? La felicità. Gli regalano la felicità. Ma è bellissimo. Dunque sono dei gatti selvatici. Me li immagino belli, belli e dolci. Vogliono regalare all'imperatore la felicità. In questo modo diventerà veramente buono. E ma pensiamo un attimo. In cosa potrebbe consistere la felicità per un imperatore? Cosa si può mai regalare ad un imperatore per farlo diventare felice? Se noi pensassimo che l'imperatore ha cinque figli, cos'è che potrebbe renderlo estremamente felice? Che cosa? Il sorriso di chi? Dei loro figli. Allora, seconda notte, seconda missione, i gatti vanno a intrufolarsi dove? Nella stanza? Dei figli. I gatti entrano nella loro stanza e cosa fanno? Si fanno il saleto. Vanno a fare il saleto con i bambini. E questi bambini cosa fanno? Ridono, sorridono. Iniziano a sorridere. Evviva, missione quasi riuscita. Per sapere se la missione è veramente riuscita. Adesso devono correre nella stanza dell'imperatore e vedere lui cosa sta facendo. Bene, fatti quatti, alcuni dei gattini entrano nella stanza dell'imperatore e vanno a controllare lui cosa sta facendo. Starà russando? Si. Allora vanno vicino, lo toccano e dicono, signor imperatore, senti, senti, senti qualcosa nell'aria. L'imperatore si alza e cosa sente? I bambini liberali. I bambini liberali. E quindi lui prova? Felicità. Una felicità immensa. Missione raggiunta. E assolutamente compiuta. L'imperatore è finalmente felice perché ha sentito i suoi figli sorridere. E adesso si fa giorno. Arriva un sole bellissimo, tutti i gatti selvatici che si erano intanto nascosti nel baule, di primo mattino si rialzano e tornano per l'imperatore. E cosa dicono? Caro imperatore, noi abbiamo come l'impressione che tu questa notte sei diventato particolarmente buono. L'imperatore dice, sì effettivamente stamattina mi sento davvero felice, perché cosa volete da me? Ritornate nel vostro baule. Ma no, caro imperatore, siccome che sei diventato veramente buono, vogliamo chiederti una cosa. Cosa chiederanno mai i gatti a questo imperatore? Di liberarli. Esatto, vorremmo chiederti, caro imperatore, di liberarci. L'imperatore dice, siete fortunati, oggi è il giorno della mia felicità, sono veramente felice e vi libero. Però voi dovete fare una cosa molto importante. Appena usciti da qui dovete fare qualcosa di bello, altrimenti non vi libero. Allora, cosa potrebbero fare di bello? Potrebbero? Giocare e cantare. Giocare e cantare con chi? Con l'imperatore. Con l'imperatore e poi? Con i figli. Allora l'imperatore dice, vi lascerò liberi, purché voi possiate sempre far felici i miei figli. E i gatti dicono, beh sì, ci sembra una missione più che giusta, ok caro imperatore? Rimarremo liberi qui nella tua zona, nella tua reggia, faremo per sempre felici i tuoi figli. Allora, abbiamo raccontato la nostra storia di bontà e di felicità intitolata, l'imperatore e i gatti selvatici rinchiusi nel baule, non più rinchiusi poi. Anche oggi ci siamo divertiti, grazie a te che ci hai ascoltato e grazie a voi e alla prossima puntata. Ciao!